Io vi racconto brevemente una serie di interventi di natura strutturale per il cosiddetto panorama energetico della nazione che sono basati su quattro colonne principali. Una è una formidabile semplificazione per gli impianti di natura rinnovabile prevalentemente fotovoltaico, la seconda è una misura che riguarda il gas di produzione nazionale che mira ad aumentare la percentuale di gas prodotto da giacimenti nazionali rispetto all'import, la terza riguarda la sicurezza nazionale cioè gli stoccaggi quanto ne mettiamo in dispensa e la quarta una misura innovativa sui biocarburanti.